Mr. I per la Freestyle Nomination, pronto e carico Un ringraziamento al mio fratello Meimatoshi Riscaldamento Ok, pronti? 3, 2 Non mi dire che non ti aspettavi un'altra uscita e farò un pandemonio Datemi un premio, la chiami Nomination, per me è una catena di Sant'Antonio Genio, anche se non si direbbe insegno Cosa vuole dire rap? E lasciati dare un consiglio Non siete obbligati per forza a diventare rapper Per essere correnti con le facce vostre Voi doveste andare a tavola e mangiare su post Ed è per questo che ti dico che non voglio andare a lemme Perché il mio legamento crociato ha conquistato Gerusalemme E pensa che una volta sono andato in un edicolo alle 4 del mattino con le gambe rotte Ho chiesto il sole 24 ore Dall'ora non resiste più la notte Però non ti arrendere mai Cerca uno stile più strano Perché come disse il mio idolo Beethoven Tranquilli ragazzi, sapete con piano E se mi hai capito con tutta sta fretta Sebbene sto pezzo sia in presa diretta E io nomino Paolo Escobarre Così la smette di dirmi che lo devo nominare Nominio Narcotravaglio Così ci divertiamo a sentirgli dire E per terzo nomino Messeddon Yo, yo, yo Pace a tutti raga Ciao